Continuano le interviste dal Framesi International Congress di Albufeira. Siamo qui oggi con Joe Damiani e il suo team è Revolution. Joe, la nuova collezione Revolution si chiama Milano, ma ha uno stile che porta oltre ogni confine e oltre ogni stereotipo. Quali sono state le principali ispirazioni per le proposte di questa stagione? Ciao Cristina, una cosa importantissima è sempre il riferimento della moda. Quest'anno ci siamo riferiti soprattutto a due tipologie di stilisti della moda fashion e quindi abiti e quant'altro. I primi due sono stati italiani, italianissimi, anzi sono proprio Dolce Gabbana, che ci hanno ispirato per quanto riguarda le trasparenze. Le trasparenze è stato il primo life motive della nostra collezione, visto che si parla di undercut, quindi rasati sotto con lunghezze che vanno a coprire molto bene quello che può essere un fatto un pochino più foolish e quindi o crazy come preferite voi. L'altro siamo andati dall'altra parte del mondo, da dove arriva un'influenza per il nostro Air Revolution, che è proprio il Giappone. E quindi ancora una volta Yoshi Yamamoto è stato il protagonista della scelta di una tendenza moda che possa vestire qualsiasi tipo di donna, sentendosi sempre assolutamente differente, come il nostro slogan è Proud to be different. Quando si parla di Air Revolution si parla di team e di una collaborazione con Framesi che dura ormai da oltre 20 anni. Cosa rende così forte il tuo legame con l'azienda? La prima parola è stima, la seconda è rispetto, la terza è qualità e la quarta è family. Questi sono un po' gli ingredienti maggiori che io cerco in un'azienda. La cercavo circa, vabbè non vi dico quanti anni fa, ma vi posso garantire una cosa, sono veramente tanti. La nostra collaborazione con Framesi è nata ed è cresciuta, è cresciuta in un'evoluzione che l'ho dovuta chiamare Air Revolution. Abbiamo dovuto rivoluzionare un po' questo concetto di collaborazione perché noi siamo in crescita, in crescita sia Framesi che Air Revolution e questo è veramente un grande orgoglio. Proud to be different. Grazie mille Joe. Ma grazie a te Cristina, grazie a voi e ci vediamo il prossimo anno a Lo Scoprirete Tra Poco. Ciao.